Mi piacciono molto, però poi... Eh, perché è un somaro e si circonda di strumenti Nell'ordine ha una tastiera, un tamburello, due calimbe, un ukulele elettrico, una chitarra, no, un basso Un sassofono, una handpan e qualche altra bestia musicale che non ricordo Un'ocarina e adesso devo andare a prendere la spesa Eccolo! E tu non fare il macello Wow! Mamma mia Mamma mia Io vado a prendere la cena, eh, ciò Se c'è qualche chitarrista su sta piattaforma viene qui e te la spacca in testa, smettila Bene Chiedo scusa Mi dissocio un pochino Mi dissocio un pochino E questo è da partarem qua par di soli che non rischiavano the galaxy